Questo è fra tutti i progetti che ho cercato di portare avanti negli ultimi decenni, per me è il più votato il nostro paese, abbiamo bisogno di quella roba lì secondo me. Ed è una roba fattibile, Italy World, FICO, è possibile farlo, sarà complicato, sarà faticoso, ma quella si può fare uno, fatto bene e poi andremo a comunicarlo al mondo, andremo a raccontarlo al mondo, che vengano a vederlo. Copa Adriatica sarà presente come gestore perché gestirà assieme a Italy tutto il nuovo progetto e anche come investitore, porterà tanta cooperazione e tanto territorio, nel senso che ci sarà importanza con una valorizzazione di tutte le produzioni delle varie regioni, perché è l'abbondanza che fa unica l'Italia. Tutta l'amministrazione ha lavorato veramente in modo molto coordinato e continua a lavorare in modo coordinato, sono molti gli assessorati che sono coinvolti in questo progetto perché ovviamente il progetto riguarda sia le società partecipate che il patrimonio, che il turismo, marketing territoriale, urbanistica, mobilità, ambiente, tutto. E' anche stata molto importante la collaborazione fra le diverse istituzioni, soprattutto le istituzioni pubbliche e socie di CAB, perché oltre al Comune di Bologna che è l'80% di CAB, il CAB è partecipata anche dalla regione, dalla provincia e dalla Camera di Commercio, quindi abbiamo lavorato molto bene insieme e abbiamo lavorato bene insieme con i privati, con la società partecipata e con i privati. Credo che questa sinergia tra tutte queste forze sia il modo migliore che abbiamo per affrontare la crisi e per affrontare e riuscire a mettere in campo e a far marciare progetti come questo.